raga sto andando al negozio del apple a comprare un mio orologio mi faccio sto regalo dopo non lo so non mi sono mai comprato un orologio in vita mia questo è il primo orologio che mi voglio regalare quindi venite con me anche perché così vi faccio vedere quanto costa qua comprare apple rispetto all'italia o addirittura l'inghilterra che ho trovato dei prezzi fuori di test qua siamo al nuovo iphone 15 pro max il prezzo parte da 110 mila euro vedete pensare una cosa che è un euro 156 un po qui vi metterò tutti i costi anche io anche tu La paura è una volta, fa tanti anni. Ho lavorato tanti anni in vita mia, non ho mai avuto la possibilità economica di comprarmi qualcosa che volevo comprare. La mia moglie ha detto cosa ne pensi, fatti un regalo a me, sembra tutto ma non pensi mai a te stesso. Questa è la carica batteria. La presa adattatore è extra, vuol dire che non lo dovete pagare a parte. Dice che nell'iPhone ci puoi risparmiare perchè poi la gente ne ha troppo. Nel batteria tengo a casa 4, mica 1, 4. Poi in futuro, se voglio, posso cambiare. Ho pagato pure l'assicurazione per 2 anni. Se si fa un danno, me lo danno totalmente a loro. Ci indore. Adesso va in calma, quando torno a casa poi lo si spiega. Per stare a una persona, wenn la mia moglie è vella. Per stare a la cima, non lo so ampio. E' senza fare. Per stare a casa, non lo so. Grazie.